Bentornati tutti quanti ragazzi siamo tornati qui con un nuovo video Io sono il regista James Dawson Sono io James Dawson Sì vabbè E niente vi saluto Abbiamo appena terminato il quattro metraggio Che non vi dirò il titolo Perché è Top Secret E niente saluto il vero regista James Dawson